Però alzati! Non gli faccia male! Non è come gli altri bambini! È malato! Non parla! Non faccio parlare io! E colonna! In marcia! Voi due fermatevi! Colonna! Fermo! Lei sta minacciando un diplomatico sul console di Spagna? Faccia scendere quei bambini! Questa macchina è proprietà del governo spagnolo! Questi bambini è come se fossero in una gelateria di Barcellona! Lei non li può sfiorare nemmeno con un dito! Che sta succedendo? I bambini nell'auto del console! Ho capito! Lasci stare! Stavolta gli è andata bene! Ma arriverà molto presto anche il loro momento! Fai gli ordini! Colonna in marcia! Quell'uomo è il motivo per cui oggi Wallenberg non è in grado di far nulla! Perché? Chi è quella faccia da morto? Adolf Eichmann! Se sei ondevi è! Cosa fa parte parte? Che stava in grado diี biasino! Chi è perché è possibile? Chiúblico sui metà piuttosto! Va fare uniti le cose pervaеше